È l'ultima persona che ha visto Luca Tacchetto ed Edith Blyce prima della loro misteriosa scomparsa in Burkina Faso ed è l'ultima persona che appare nell'ultimo video che il figlio dell'ex sindaco di Vigonza ha spedito a casa. Robert Guigliotot è il francese sposato con una Burkina Bè residente a Bobo di Oulasso con più di mezzo milione di abitanti, la seconda più grande città del paese africano, che ha ospitato i due giovani scomparsi il 15 dicembre. Guigliotot è ora stato raggiunto dai media canadesi in Africa e ha descritto Luca ed Edith come educati e gentili, tanto da temere che questa gentilezza e ingenuità possa averli danneggiati. Il francese non è potuto far altro che ipotizzare quale strada abbiano preso dopo averlo salutato, offrendo una serie di alternative e descrivendo scenari molto diversi per pericolosità o sicurezza. Il viaggio in automobile di Luca ed Edith era quasi arrivato a destinazione, il Togo, ma a quanto si è appurato il tragitto per raggiungerlo poteva sempre subire modifiche anche dell'ultimo minuto.